Ebbene, siamo giunti alla quattordicesima edizione di Miss Sud, evento ideato ed organizzato in esclusiva dall'Associazione Eventi, Arte e Spettacoli e dal direttore artistico Gino Stabile per il quale chiedo subito un fortissimo applauso in regia dietro le quinte e vi ricordo che il concorso ha come unico obiettivo quello di dare prestigio e visibilità alle ragazze nate e cresciute unicamente al Sud, individuando fra queste la candidata che maggiormente, secondo voi, rispecchia il nostro meraviglioso Sud Italia. Tale ricerca come avviene? Avviene attraverso un tour regionale che approda nelle più belle località del territorio meridionale un viaggio itinerante alla scoperta non solo delle ragazze più belle del Sud Italia pronte appunto a contendersi il titolo di Miss Sud ma anche delle bellezze paesaggistiche, delle tradizioni e della cultura nostrana. Ricordo inoltre che l'iscrizione e la partecipazione sono del tutto gratuite e il tour 2023 si concluderà con una finale il 9-10 settembre a Rocca d'Aspide. Bene, vi avevo promesso del divertimento e quindi è giunto il momento di chiamare sul palco un artista poliedrico, lui è un attore, un cantautore, un comico, signore e signori, Ottavio Buonamo! Buonasera! Maestro, musica! Buonasera! Maestro, musica! Buonasera! Ah, come siete bene! Buonasera! 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 Il profilo al mizzo gusto E fa fornir come tu mi Resolvena E tu ti dà Grazie a tutti.